Un bene confiscato alla mafia diventerà la nuova sede dell'Associazione Quarto Savona 15, presieduta da Tina Montinaro, moglie di Antonio Caposcorta di Falcone, ucciso a Capaci. A consegnare le chiavi all'Associazione il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Presente anche il ministro dell'Interno, Piantedosi, che ha espresso soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di valorizzare i patrimoni sottratti alla mafia. Non ci hanno fatto niente, il commento del ministro citando il titolo di un libro della Montinaro. Grazie.